buongiorno amici oggi vi volevo presentare la nuova famiglia di porta accessori rigidi si tratta di prodotti costruiti in un materiale molto leggero a cellule chiusa il polistirene estruso rullato e che conferisce a questi prodotti una notevole forza e robustezza unita a una straordinaria rigidezza la superficie esterna è stata rivestita con un prodotto facilmente lavabile l'ecopelle e all'interno è stato sono stati foderati con un tessuto impermeabile al 100 per cento a questa famiglia appartengono dei porta canne rigidi il porta rubasien rbs cage 200 il porta kit 170 porta kit case 170 per disporre e metterci dentro almeno 10 in cinque sezioni ed anche il match feeder case 165 capace di ospitare e sei canne inglesi o da feeder già montate e pronte per l'uso quindi con il mulinello e l'arenza attaccata inoltre a integrare a completare la linea di questi accessori ci sono i tre frigoriferi gli icebox 200 300 e 450 ed anche la borsa porta kit e porta rulli da 115 centimetri